Ai microfoni di Manfredonia News, Anna Paola Serena, Naviga Co-Driver, oggi appunto in occasione della quinta edizione del Rally Porta del Gargano. Questa mattina signora appunto Anna Paola avrà luogo a partire dalle Ghiugge il cosiddetto percorso speciale mattinata. Così vi illustrò brevemente quali sono le novità della gara di questa mattina. Questa mattina cominceremo con una prova di poco meno di 6 km, velocissima, molto molto bella, è pianeggiante e discesa, nuova perché l'anno scorso effettivamente questa prova non si faceva ed è diciamo il preludio di poi la classica che da mattinata va da Monte Sant'Angelo che sono la 14 km, anche quella molto bella, molto veloce, molto tecnica, molto più seriosa. Per noi navigatori oltre a tutto lo è ancora di più perché ci sono tantissime notte e quindi bisogna fare molta attenzione, ci vuole tanta concentrazione. In bocca al lupo allora e grazie ad Anna Paola Serena. A voi.